Buongiorno mister. Fare una considerazione sull'approccio, sicuramente migliore rispetto alle gare precedenti, i primi 10-12 minuti, insomma prima dell'espulsione, avevamo preso in mano la partita molto bene, è un campo difficile perché comunque si è dimostrato un campo difficile. Sì, abbiamo avuto due belle opportunità, sono arrivate al tiro a Chiereiche e da Cruz e poi purtroppo l'episodio chiaramente ha condizionato un pochettino la gara, però non è andata, è inutile piangerci addosso, però va bene così, non possiamo farci niente. Guardiamo al campo, guardiamo quello che è la sfida di domani che è molto importante e di conseguenza tra mille difficoltà perché abbiamo qualche problema, qualche defezione, per squalifica, per infortunio, di conseguenza dobbiamo fare un gruppo forte, si vede in queste situazioni. Ecco, e quindi dobbiamo fare una reazione importante sul campo, quella rabbia che avevamo la settimana scorsa dopo questa partita, cioè lunedì scorso, dobbiamo, come abbiamo cercato sempre di fare, metterla in pratica, in campo, per quello che sono le nostre qualità, le nostre caratteristiche. Hai parlato di problemi fisici, c'è qualche cosa che non sappiamo più? C'è qualche giocatore che non sta bene? C'è il Galabino che è a rischio, quindi adesso fa un esame strumentale, un affaticamento e non sappiamo se è in grado di, da due giorni che non si allena, ieri e oggi, e quindi valutiamo oggi pomeriggio secondo il risponso degli esami strumentali. Ecco, la scorsa partita però ti ha lasciato, diciamo, l'impressione di aver visto una squadra comunque che è rimasta in partita a fine della fine, non era facile. A fare l'esempio, ad esempio, della settimana prima, quando all'Ascola avevamo fatto tre gol nel secondo tempo in superiorità numerica, quindi non è un momento. Adesso ci siamo ai corti che abbiamo fatto una prova importante, perché la settimana scorsa magari è stato facile perché in dieci era normale, invece con l'Ascola è chiaro che abbiamo fatto una reazione importante, abbiamo fatto oltre ai gol due pali, altre occasioni. Qui, diciamo che la squadra ha cercato di rimanere in partita, abbiamo provato a recuperare il gol subito, c'è stato un po' di sacrificio da parte di tutti gli attaccanti, perché siamo rimasti sempre equilibrati. Ecco, quindi da questo punto di vista lo siamo stati perché si sono sacrificati tutti, avere un uomo in mezzo al campo in meno non era facile, però Ricci e Bartolomeo hanno fatto la loro parte, è maggiore quando è entrato. Sono fatto un buon lavoro di interdizione e anche di rilancio, per cui Ricci e Bartolomeo hanno recuperato veramente tanti palloni e cercando poi di ripartire. La squadra ha fatto quello che doveva fare, ripeto, c'è stata la reazione, magari qualche volta abbiamo rischiato qualche ripartenza verso la fine, però era inevitabile. Noi la voglia di andare a portare su tanti uomini, la voglia di rimettere in gioco a posto la partita, però ripeto, fino alla fine qualche buona opportunità abbiamo cercato di crearla. Buongiorno mister. Da Perugia hanno detto che le prossime due partite, quella con lo Spezia e quella con il Cittadella, la loro saranno due finali di Champions, la vede possibile anche per lei una definizione del genere, giusta? Io credo che anche le altre, tutte ormai sono finali, perché non è che se fanno bene queste due partite le altre due possono mollare, visto che ci sono tante squadre che hanno questa ambizione di arrivare nei primi otto posti. Ci sono squadre che adesso si sono ringalluzziti come per i risultati che hanno fatto, ultimamente mi riferisco alla Cremonesa, all'Ascoli, a Cosenza stesso, per cui tra l'altro c'è un confronto diretto importante, Cittadella-Ascoli, che se qualche settimana fa poteva essere una partita così di fine stagione, per quanto riguarda l'Ascoli che ha raggiunto la salvezza, adesso con la vittoria e la sconfitta di Cittadella si sono rimessi in gioco altre tre squadre. Ecco, per cui sono quattro finali per tutte le squadre che in questo momento hanno aspirazione o anche, matematicamente, l'opportunità di rientrarci nei primi otto. Salve, mister. Rispetto allo Spezia il Perugia ha avuto praticamente un rendimento opposto, ha fatto molto bene con le piccole, mentre invece con le grandi ha quasi sempre fallito. Ecco, le chiedo come valuta nel complesso della stagione il rendimento avuto fin qui, nella prossima versione dello Spezia. Aspettiamo per fare la valutazione finale, aspettiamo le ultime quattro partite e poi facciamo le valutazioni. Noi abbiamo fatto il nostro percorso di crescita, abbiamo avuto inizialmente qualche difficoltà per cercare di trovare sia la condizione fisica, sia l'aspetto tattico, di trovare delle soluzioni. Poi siamo andati abbastanza bene, abbiamo avuto un calo, un periodo che sapete che hanno influito tante situazioni sia in campo sia fuori, secondo me. Adesso siamo in ripresa perché, ripeto, le ultime cinque partite potevano essere almeno quattro vittorie, ecco. Perché col Foggia sappiamo com'è andata, l'ultima sappiamo com'è andata, magari qualche punticino in più meritavamo nell'ultimo periodo. Per cui la squadra è in crescita, anche se non è riuscita, come in precedenza, di fare sempre 90 minuti o quantomeno avere sempre 70-80% di rendimento importante come gestione della gara. Oltre non siamo stati brillanti il primo tempo, però complessivamente il fatto che noi siamo abituati bene si nota maggiormente quando non siamo al top. Però la squadra poi ha sempre reagito, cercando, come è successo con la Salernitano e con l'Ascoli, di fare a pieno, di rimontare. E questo dimostra anche il carattere, di rimettere a posto le cose. La vittoria di Benevento, venivamo da quattro sconfitte in cinque gare e siamo andati a vincere a Benevento. Questo è un segnale forte da parte della squadra, quindi complessivamente la squadra ha fatto un bel percorso di crescita. Adesso dobbiamo concentrarci su questo finale per non vanificare quello che di buono è stato fatto. Se riguarda indietro però al calo di cui parlava nel momento di maggiore brillantezza, lo inputa più a qualche problema fisico che ha avuto qualche giocatore fondamentale? Oppure a tutta la questione di Vorno, visto che ormai è alle spalle? Insomma, però chiaramente guardando la classifica e i risultati verrebbe da pensare che quello è stato la spina sotto il piede di un atleta. Ho detto prima, l'ho risposto in pratica prima perché ho detto che in quel frangente ci sono stati tanti fattori messi insieme. Interne ed esterne. Interne intendo dire che è chiaro che c'è stata qualche inflessione, come in tante altre squadre, voglio dire, tranne le prime che hanno avuto il rendimento costante e le altre hanno avuto alte e basse. E quindi c'è un po' di tutto. Tanto tempo fa dissi che magari quando vinci abbiamo iniziato qualche problema, è venuto fuori dopo una vittoria straordinaria a Cettatella, sia come prestazione, come risultato. E non si è parlato di quella vittoria. Voglio dire, il calcio è la vittoria da entusiasmo all'ambiente, a tutto. È iniziato un periodo che non si parlava di calcio. Probabilmente a livello incoscio qualcosa ha potuto incidere. Io dico in generale, tanti fattori messi insieme hanno determinato qualche risultato, ma soprattutto qualche prestazione negativa in quel periodo, che è la cosa che i risultati a volte, direi, in quel periodo col Verona magari abbiamo fatto una buona gara, non meritavamo di perdere, per dire, a Pescara meritavamo di perdere, perché non abbiamo fatto il nostro calcio colpato, ma meritavamo di perdere, perché non abbiamo fatto in quel frangente. Ci sono stati tanti fattori che hanno determinato un rendimento inferiore. Però, ripeto, rialzarsi in quella maniera che nelle ultime cinque ne abbiamo vinte tre e le due che abbiamo perso abbiamo qualcosa da recriminare, questo è il dato positivo, perché i periodi negativi ce li hanno tutti. Come si aspetta lo stadio sabato? Secondo me c'è la percezione di quanto questa squadra sia comunque in gioco e sia, per dire, abbia dimostrato durante il campionato che può vincere contro chiunque, quindi arrivare ai play-off poi niente è scritto. Sì, mi aspetto che la gente ci dia una mano, spero che numericamente crescano, però a me è da elogiare la gente che ci sta vicino, che ci sostiene sempre, che sono sempre stati dalla nostra parte in maniera importante. Anche chi, come abbiamo fatto noi i chilometri per andare a fare il nostro lavoro, gente per passione fa tutti questi chilometri per arrivare a Cosenza, a vedere la partita, questi tifosi vanno premiati, dispiace che poi succedano determinati episodi che ti danneggiano, noi avevamo in mente di fare una partita di un certo tipo e l'approccio era stato, dicevamo, positivo. Abbiamo fatto una trasferta, siamo stati, la società ci mette nelle condizioni di muoverci al meglio, siamo stati tre giorni in Calabria, e poi perdere in quella maniera dispiace ancora di più. Abbiamo fatto la domenica di Pasqua tra viaggio e Cosenza, la partita del giorno di Pasquetta, l'indomani ci siamo allenati, siamo arrivati a mezzanotte di martedì, perché cerchiamo di mettere nella condizione tutti di lavorare per il meglio e poi i sacrifici magari non sono stati ripagati, non solo per colpa nostra, però, ripeto, la gente sa che noi stiamo dando il massimo e spero che vengano l'unico handicap, diciamo tra virgolette, che mi piacerebbe vederne di più gente allo stadio. Quelli che ci sono danno e ci incitano fino alla fine. Mi auguro che cominciano a crescere anche come numero, questo è l'augurio di tutti, dipende anche da noi, perché se facciamo qualche altro risultato magari per il finale si riempirà. L'augurio è quello, perché tutti noi cerchiamo di fare il nostro lavoro per cercare di trascinare l'entusiasmo che è importante. Mister, parlando dell'avversario, che cosa si aspetta dal Perugia e, insomma, cosa si può dire di questa squadra? È una squadra che gioca bene a calcio, è una squadra organizzata, che ha tantissima qualità davanti, hanno quattro giocatori d'attacco sempre, oltre ai due centrocampisti che organizzano il gioco, per cui bisogna stare attento perché sanno ripartire bene, sanno giocare bene. Non c'è poco da dire sulla qualità di gioco e sull'organizzazione che è riuscita a dare nesta, quindi ci aspettiamo un avversario tosto, che ha un'idea di gioco, quindi dobbiamo essere molto bravi nelle due fasi, ma anche quando noi facciamo gioco di curare bene le coperture preventive perché hanno, ripeto, le qualità che quando ripartono e hanno spazi diventano devastanti. Abbiamo sempre parlato di un centrocampo numericamente molto vasto a livello di numeri di giocatori a disposizione, te ne mancherà però due titolari, se possiamo parlare di titolari in questa squadra, contemporaneamente. Ovviamente ci sono le riserve, però sei preoccupato oppure sei tranquillo? No, l'ho detto prima, il gruppo forte si vede quando ci sono alcune defezioni, perché io non posso considerare alternative, non riservo, non mi piace questa parola, cambia poco, però, ripeto, maggiore, crimide, Francesco, sono ragazzi che quando sono stati chiamati hanno dato il loro apporto, probabilmente chi ha giocato meno potrebbe mancare di intensità per 90 minuti, però chi gioca dall'inizio, dove arriva, arriva, poi subentrata qualche altro, insomma, non è questo il problema. Grazie, posto. Ministro, una considerazione, giusto una curiosità, in questo finale di campionato volevo chiederle se, come sta vedendo anche i giovani, che spesso sono aggregati alla prima squadra, che magari arrivano dal settore giovanile, non so, magari ci sarà spazio anche per loro nelle partite conclusive, mi chiedo come li sta vedendo. Secondo lei, rispondo con un'altra domanda, in un momento che ci giochiamo la CSI playoff, è possibile inserire giovani in questo momento? No, infatti la prima domanda era come li sta vedendo, e anche in questo momento. Ma a prescindere di come li sto vedendo, è normale che non possono, in questa fase, se eravamo né carne né pesce, tra virgolette, magari qualcuno poteva avere più spazio, ma in questo momento caricare di responsabilità eccessiva ragazzi che ancora non hanno mai debuttato in B, mi sembra eccessivo. Quindi diamo il tempo di crescita, perché ci sono giovani come Deiramo, come Figoli, come Moracheoli, che sono quelli che si allenano spesso con noi, hanno sulle mani, insomma sono ragazzi che stanno crescendo, perché allenandosi con quelli più grandi, quindi migliorano anche loro a livello di intensità, di velocità di testa e tutto, quindi la fase di crescita c'è sempre, perché ripeto, si allenano con ragazzi che sono più mature, hanno qualità, fisicità e quindi l'aiuto a crescere c'è, però diciamo questi sono ragazzi di prospettiva. Non solo questa la curiosità. Grazie a tutti.